Musica Rassegna stampa di martedì 21 marzo, una cordiale buon pomeriggio a chi segue le notizie in diretta qui su Piazza Indiretta. A condurre la rassegna stampa c'è Ambra Taormina, andiamo agli argomenti della cronaca del giorno. Si parte con Piazza Armerina, si parla di musica parlando di Angelo Romano, componente del duo Armerino dei Romano Bros. Ebbene è stato Angelo Romano a pubblicare un brano, pensate un po' di ben 36 minuti, considerato uno tra i dieci più lunghi del panorama musicale mondiale. Il brano è un tributo al grande maestro della musica italiana Lucio Dalla, sentiamo l'articolo dedicato da Redazione. Primavera di musica e festa, primavera di record e bellezza per la nostra città e per l'Italia intera. Con Angelo Romano, componente con il fratello Marco dei Romano Bros, autore di un cantico musicale lungo ben 36 minuti, tutto dedicato alla memoria del grande Lucio Dalla. Uscito a gennaio, il cantico musicale è molto di più di un segno di ossequio a perenne ricordo di uno degli artisti simbolo della musica italiana. Ma è l'essenza intima e feconda che muove gran parte delle gesta musicali del talentuoso artista della città dei mosaici. Angelo, figlio d'arte del grande Pippo Romano, è cresciuto insieme al fratello Apane e Lucio, strapazzando tutti i vinili di papà ben custoditi in casa di ogni genere e tipo. Dopo la prematura scomparsa del cantautore bolognese a distanza di circa un anno, i fratelli Romano, che tra l'altro state vedendo in foto, hanno sentito la forte esigenza di rendere un attributo al maestro e così sono nati dalla Trinacria, formata assieme al maestro Di Marco, Jonathan Colaprisca e altri musicisti professionisti siciliani. Il pianista catanese Giuseppe Furnari, il chitarrista ragusano Razio Fontes e il bassista, Gelese, salvo Pagnotta. Dal 2015 i Romano Bros si esibiscono anche a Bologna per rendere omaggio a Lucio Dalla, preferibilmente ogni mese di marzo. Dopo il Cantico di Lux, che vuole essere solo una parentesi musicale personale di Angelo, questo è il titolo del brano, i Romano Bros stanno finalmente ultimando la realizzazione del loro secondo album, un progetto musicale che è stato costretto ad un blocco forzato per via della pandemia.